Regà, mettete la sede. C'è stato un certo regolamento dei conti, bisogna ammazzare uno, la sentite? C'è stato uno che ce l'ha staccato al cazzo, che vuole prendere la zona nostra. E noi dovemmo far capire sbagliato, no? E certe cose non si fanno, che comandiamo noi. Perché se no uno domani si sveglia e si sente il diritto di venire a cazzo a noi, giusto? Quello che dovete ammazzare è un indurtato, si chiama un certo perego, ruggero. Un ex uggiro, però i soldi aveva cominciato a farlo dopo. I verrieti, una baracca. Si è ritirato perché gli affari vanno bene. Ha detto che voleva trovare un po' di pace, no? E noi gli ho voluto da sta pace. La pace eterna. Questa è una cosa diversa che avete fatto da tutte quell'altra, eh? Però l'ho osservato, secondo me, è roba che vuoi. Che mi dà la stoffa, no? Poi Simone vi dice tutto il resto. Fate bravi. E poi presento il capitano, va bene? Andate va. Andate a divertire. Grazie. Grazie.